Ci sarebbe stata una deliberata linea di politica aziendale del San Raffaele di Milano per conseguire i maggiori rimborsi possibili da parte del Servizio Sanitario Regionale, alla base dell'accertata sistematicità e frequenza delle violazioni riscontrate nelle cartelle cliniche dei pazienti dalle quali è emersa l'incontestabile contemporanea presenza di chirurghi e anestesisti in più sale operatorie in oltre 2.000 interventi. Interventi effettuati tra il 2011 e il 2013 in regime di accreditamento e che hanno portato nelle casse dell'ente oltre 18 milioni di euro. È quanto scrive il giudice di Milano Carlo Ottone De Marchi nel provvedimento con cui ha mandato assolto Giuseppe Profiti per pochi mesi vicepresidente del CDA, precisamente nel periodo in cui il polo ospedaliero e scientifico era travolto dal dissesto al termine del processo con rito abbreviato con al centro presunte in regolarità nei rimborsi percepiti sugli interventi chirurgici in quanto è risultato che l'equip di medici sarebbero state regolarmente costituite solo sulla carta. In sostanza per l'accusa sono state presentate all'ASL ai fini dei rimborsi le autocertificazioni attestanti la regolarità risultata poi non vera dei requisiti di accreditamento e che in questo caso hanno riguardato il numero di chirurgi e anestesisti presenti in sala operatoria per ogni intervento effettuato. Per questo il giudice ha rinviato a giudizio per frodi in pubbliche forniture Roberts Mazzucconi, storico direttore sanitario dell'ospedale fondato da Don Verzee e Mario Valsecchi e Nicola Bedin amministratori della struttura, il primo fino al 2012 e l'altro ancora in carica. Il Gup De Marchi ha ritenuto che i profitti è rimasto nel consiglio di amministrazione della fondazione Monte Tabor soltanto per pochi mesi e cioè dall'8 luglio 2011 al primo febbraio successivo. Al momento dell'assunzione dell'incarico si è trovato a dover fronteggiare una situazione di grave crisi azientale rispetto alla quale l'imputato, così come gli altri membri del nuovo consiglio di amministrazione, è stato investito in ragione delle sue competenze e anche del compito di agire in discontinuità rispetto al passato e di tentare un risanamento del polo ospedaliero di Segrate. Inoltre, secondo il giudice, non costa che abbia mai preso parte ad atti o decisioni inerenti la gestione operativa e organizzativa delle attività cliniche della struttura. Come si sottolinea nelle motivazioni dell'assunzione del manager della sanità, è vero che i profitti nell'ottobre 2011 ha sottoscritto una delle autocertificazioni che attestava la regolarità di requisiti relativi alle dotazioni organiche nelle sale operatorie, ma altrettanto vero è che per questo motivo potrebbe al più essere riaddebitato un'omissione colposa di controllo.